Ho scelto di studiare filosofia in cattolica perché è l'unica università d'Italia che offre ancora dei corsi istituzionali di storia della filosofia e riesce così a completare lo studio dei testi classici con un'approfondita conoscenza della storia della filosofia e perciò sono venuto dalla Spagna a Milano per fare sia la triennale che la magistrale in cattolica.